...ed introduciamo il distretto, il secondo distretto, il distretto dell'ambiente. L'ingegner Lorenzo Ferrara, massimo esponente, massima carica del distretto, presidente. Grazie, buongiorno a tutti. A tutti, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 delle macchine ambientali che riguarda esclusivamente il ciclo reale, il ciclo dei rifiuti, le politiche e in realtà si cerca evidentemente anche di promuovere, come dicevo già sotto le esperienze similiche in Italia, il rapporto di tutta la ricerca e presa per arrivare, come dire, a quello che ormai è assoluto comune, cioè uno dei risultati più efficaci che abbiamo per promuovere la crescita delle nostre imprese, delle nostre piccole imprese, è sicuramente l'innovazione e tramite l'innovazione poi anche promuoverci sui mercati internazionali, come vi dirò poi. E gli approcci sono di tipo tradizionale, di internazionalità, di spinosa a partire della ricerca delle imprese, ma anche, a mio avviso, molto efficace, cioè un approccio di internazionalità, cercare di partire da quello che esiste e cercare di fornire una propria tecnologica ai processi produttivi già in alto. Questo ovviamente riporre a guardare cose che si vuole interessa, perché come immaginate, le tematiche che attendono all'impatto ambientale, attraverso trasversalmente tutte le attività produttive. Ecco, il distretto della mente in questa fase, dopo un'ottica di rapporto a passare, per le azioni che stanno sorgendo, ha segnato una convenzione, sottoscritto una convenzione insieme con l'ADS che poi insomma, che attualmente il rivoluzione del cittadino tecnologico si identifica nell'ADS che si è costituita da un po' o da un tecnico di Italia, questa di Italia, Alfa Puglia e il CNR, che sia una domanda vita di una serie di azioni per la startup, per l'altra via della vita del mondo. Nell'angolo dell'attività di stretto sono stati proposte 100 attività, 100 progetti che non solo sono una denominazione, un mito, ma dietro al progetto c'è una compagno in particolare, costituita da uno o due soggetti e nel 50% dei casi, che sono progetti innovativi, tante che il 46% e il 25% che si dicevano, quali casi sono accompagnati da distretti cambiamenti di diversità, dopo quella forte connotazione di innovazione, tipo tecnologico di processo, insieme a questo momento. L'altra esperienza che non è necessitata è quella del progetto NETECO, questo è un progetto di notizia regionale, in cui, insieme con la regione classificata, stiamo promuovendo appunto l'incontro anche qui, tra un modo di ricerca e un modo di ripresa, e come esperienza è trattato come esempio di trasparenza, sono messe in rete 38 poste di innovazione tecnologica, soprattutto orientate al campo delle bonifiche, dei monitoraggi ambientali e degli interventi di bonifiche, e poi le aziende che hanno avuto il progetto possono chiaramente accedere, scelgendo come da un menù, le occasioni di innovazione che vogliono correre in questo lavoro di questo progetto. Ecco, mi piace citare qualche esempio, perché alla fine, al di là della proposizione di raffermazione che volevi dire, l'assunto che la nostra scommessa, la scommessa sul mercato, si dice soprattutto attraverso l'innovazione, insomma, tra poco imprese e università, è un assoluto condivizio molto pronunciato, però non è vero che l'intervento parliamo. Qualche esempio, quindi, voglio dire, giusto per, mi sento di poter dire, definire incoraggiante l'esperienza del distretto, lo faccio attraverso qualche esempio. un rapporto particolarmente interessante, il trasferimento tecnologico, è un punto tra cui la CEP, il padre del CNR, e la due aziende del distretto. Qui abbiamo un esempio di una metodica di decontaminazione dei servizi di inquinanti da passaposto. Parintesi, diciamo, la stagione delle bonifiche in Italia, più volte annunciata, è sempre, è sempre stato ricordato in Italia, come anche evidentemente in Puglia, in Puglia, in Puglia, in Puglia, in Puglia, in Puglia, in Puglia. Questo è un periodo di grandi risorse. E allora ecco che la ricerca deve orientarsi non a cercare necessariamente la migliore tecnologia, ma la migliore tecnologia a passaposto. questo è un fronte sul quale non ci siamo limitati. E quindi questa tecnologia di FITORM10, non se volete, FITORM10, che nasce nel laboratorio del CNR, prevede, appunto, la selezione e l'utilizzazione di alcune specie ancora, in questo caso chiamate, che vengono appunto selezionate in laboratorio e poi, evidentemente, i piantumati, che in realtà è quella che dimostra, le foto che dimostra, si desideriscono ad un'azione di mostratura in corso di questo documento a Taranto, in un'area costruicente in particolare, in un'area ridosso del matricolo di circa 6.000 metri quadrati e questa informazione è avvenuta dopo la quinta di laboratorio in aprile e oggi siamo ad uno sviluppo di nostri elementi della ricerca di informazione e avremo il record che si annuncia del positivo sui mani di effetti dei contaminanti al primo, già alla fine e alla fine di queste posizioni finanziarie. Un altro esempio è quello del progetto di SEDA, posso esprimere quel voto di un'azienda, perché una delle missioni è distretto quello di di educare le aziende a lavorare in filiera o in associazioni di buon parto, cosa non proprio di scusa dalla nostra parte e quindi invece è avvenuto, quindi se stiamo a testare un sistema di monitoraggio aereo del territorio, mi vado a identificare le aree in cui c'è carenza di sostanza organica e quindi processi di desertificazione in aprile che, come sapete, di caratterizzazione totale nel nostro Mediterraneo, o viceversa la presenza di organici, tipicamente di organici. Quindi questo sistema, attraverso appunto delle carrile interseccionali, consente di usare una mappatura che, diciamo, con cui si è trovato, poi ci consente di identificare questa distinta caratterizzazione dei terreni, quindi interventi e che ci siamo interventi, in un altro caso, proprio con l'applicazione di ambientati organici composto ovviamente dalla filiera della valorizzazione della attrazione organica del territorio urbano. Un'altra iniziativa riguarda invece l'innovativo sistema di depurazione dei ritori urbani, il tema della depurazione in Puglia e come sapete di grande attualità. E sempre dei laboratori del CNR, proprio di pari e con la collaborazione della nostra azienda, sta per essere visualizzato un processo di depurazione, qui vedete il prototipo, qui vedete lo schema di processo, ma quello che in questa sede credo sia più fortissimo sottolineare, qui vedete a confronto, qui si tratta, non vi dico di che piano si tratta, parlando dei più importanti di piano di depurazione, proprio per l'area gugliese, qui vedete come l'impianto assistente potrebbe modificarsi, quindi come potrebbe semplificarsi per una riduzione evidente dell'area impugnata, ma anche dell'impiantistica impugnata, attraverso questo sistema e soprattutto con una riduzione, fino all'80% della produzione dei panni di internazioni che sono uno dei problemi seri in cui abbiamo, perché il tornamento di queste materie è particolarmente problematico. La propensione del distretto quindi a essere presente i studenti della ricerca dell'innovazione e anche per la nostra stessa ci ha consentito anche di essere partecipi al tavolo della piattaforma tecnologica italiana della gestione sostenibile dei rifiuti e ci consente anche di proporci all'estero con qualche, a tutti di più per cercare di confrontarci con gli altri competitori del territorio nazionale. La mese di ottobre dopo alcune, diciamo dopo aver sottoscritto un accordo con le amministrazioni di quel paese, parlo della Serbia, siamo stati, appunto abbiamo costituito una rete di presa, di questa rete, devo dire che sono presentemente perché non sono lavorato, ma pensare che hanno avuto un'attività di presa di questo, mi sa forse una rete di quale è un'attività di un'attività, ma io potrei pensare che siamo stati tratti a rospettare le possibilità di mercato in quel territorio dove siamo, 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 io che era una rete, non ho trovato anche a Codinza e, quello sta avvertita anche a quello che sono tutti, come dire, attiviamo le scapsi del mondo che è all'emico in quel territorio perché io so che ancora gli stati sono con una diversità a quello che ha, a quello che ha, per le internazionali, quindi ci apporgeremo volentieri, cercheremo di coinvolgere attraverso le università, le tecniche di casa, mettere i loro omologhi in sede. Ecco questo è il nostro modo di rapportarci al mondo della ricerca e al mondo della pubblica amministrazione, vogliamo tradurre anche questa nostra modalità operativa per rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare con la regione, perché se poi noi vogliamo ricaricare il nostro contributo, soprattutto nelle confronti delle regioni, per esempio, torniamo all'attualità, nei momenti di strutturazione dei sostegni economici e anche all'innovazione. E vorremmo poter dare il nostro contributo sia in fase di identificazione di questi strumenti e di applicazione. E, richiamando appunto a quello che sta a tempo, per esempio, non ci permetteremo di proporre le nostre osservazioni sul dando dei strumenti di classi tecnologici, di cui penso ci parla la dottoressa Mirella, e siccome la presentazione della nostra operazione è in avventi di questo mese, penso che da domani faremo le nostre proposte, che sicuramente siamo certi che ci verranno dalla comunità attenzione della regione. Grazie. 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 Grazie.